ragazzi benvenuti benvenuti in questo video che segue un po quello che ho già fatto precedentemente in quanto riguarda appunto il ban tre virgolette che ha subito solo per un giorno fortunatamente la serie di di voglia in order di andrew channel con me a commentare questo quello che è poi successo nella giornata di ieri fortunatamente c'è qui un altro ragazzo che come me condivide questa passione sia di youtube che dei giochi strategici abbiamo qui con noi mister g salve salve a tutti tutti quanti sono mister gans anche per chi mi conosce esatto allora con lui avevo già fatto tempo addietro mai quasi un anno fa anche se forse di più una piccola collaborazione potrebbero seguirne altre quindi se volete state attenti attivate le campana campanellina l'iscrizione sia a me che al suo canale dopo lo andiamo a vedere comunque sia piccolo rassuntino per chi dovesse essersi perso qualcosa ma non credo gli è l'altro ieri lunedì la serie dentro c'è nell'ha subito appunto quella di di voglia in order di rock universali squad ha subito un ban a catena di tutti i video che aveva caricato circa 33 34 all'epoca erano 33 questo è stato dovuto dopo un po di elucubrazioni sia di andro che anche della community ha probabilmente a due cose anche perché andro ha spiegato poi nel video di oggi diciamo ha fatto anche una piccola chiusa della situazione molto probabilmente c'erano sì dei tag che davano fastidio a tre virgolette youtube per quanto riguarda appunto la parola crociati e deus volt come ho detto anche nel video precedente ma probabilmente è arrivata questa questo problema è arrivato il pot di youtube semplicemente perché qualcuno più di qualcuno è andato a fare una segnalazione in massa dei suoi video questo è quello che ha detto anche andro nel video che ha pubblicato questo qui che vi sto facendo vedere ora adesso questo qua in cui ha pubblicato appunto che è finito il banner i video sono tornati tutti su ma probabilmente per quello chiaro che vi sembra un po ridicolo adesso chiediamo l'opinione anche al nostro ospite che è un po ridicolo che basta un'assimilazione di quanti 5 6 persone su 20 video e arriva a cannone questo questo questa scure di youtube che ha chiuso tutti i video solo perché andrew ha comunque alle spalle qualcuno perché appunto ha una partnership eccetera eccetera è riuscito a tirare su tutti i video se no erano andati persi quasi 600 700 minuti di video e che sono ore di lavoro che tanta gente non capisce questo cosa ne pensi tu gans ma allora personalmente io ho avuto modo di assistere direi indirettamente o comunque ci tenevo a fare questo video perché sarà girato anche sul mio canale siccome se non lo facevamo insieme comunque lo faceva da solo perché penso che sia non solo una azione ingiusta da parte di youtube come detto tu prima molte persone spesso che magari seguono questi video e non si rendono conto di quanto lavoro c'è dietro per questi canali a maggior ragione per quando si si cresce di iscritti quindi tanto più lavoro quanto per una copertina quanto per il video se lungo per il montaggio per l'editing e per tutto il resto e io personalmente con con il mio secondo non dico canale account di youtube se lo tengo libero appunto per vedere questi questi video ho visto che ultimamente la nostra community di nicchia strategica si è mobilitata in massa e per appunto fare video ognuno col suo canale di per questa cosa appunto di andrew e sinceramente devo dire che è una cosa bella perché questo ci rende uniti e quando succede un problema ci ci diamo una mano vicenda per fare molto molto velocemente qualche nome tu sei stato appunto il primo poi ho visto che anche galloz aveva fatto un video anche la clan legio e addirittura a causa proprio di di questo avvenimento ho scoperto un canale che prima per esempio non sapevo neanche che c'era che era appunto tarfone e anche lui stesso ha fatto un video una cosa bella tra la nostra community perché ci unisci tutti quanti e ci ci permette insomma di fare vedere youtube che siamo uniti ecco esatto anche perché secondo me questo è un problema che può capitare a chiunque perché se fosse capitato a me probabilmente chiaro non ci sarebbe stato tutto tutta questa mobilitazione eccetera e beh ovvio ci chiede questo mi sembra al minimo però è un problema che può capitare in qualsiasi momento a chiunque è stato bello appunto vedere che ci sono anche altri canali che si sono mobilitati non ho visto personalmente il video della della canale digitalica ho visto che l'ha fatto ho visto quello di galloz ho visto anche questo di questo ragazzo tarfone adesso non so come si pronuncia il suo canale poi lo metterò lo metterò il link in descrizione l'ho scoperto perché guardando il video di andrew l'ha citato ha citato anche me ringraziando appunto del video che avevo fatto che avevo fatto in tutta una giornata in cui ci rifletteva una cosa che per me era la follia perché veramente uno per un tag viene castrato in questa maniera io adesso continuo a mettere devo svulta dove posso lo metto non mi interessa anche soltanto per un discorso di principio perché io capisco la reazione che ha avuto youtube è comprensibile perché comunque stiamo parlando di una piattaforma che gestisce milioni milioni di anzi forse anche miliardi di euro di sponsorizzazione in giro quindi si deve parare il culo e ne sono ne sono convinto e il fatto che abbiano e abbiano agito subito un pelino li mette non dico li ha salvati ma più insomma non sono così negativo nei loro confronti però poco c'è mancato poco c'è mancato perché se si svegliavano tra due tre giorni il danno a andrew sarebbe stato molto grande anche se questo l'ha tra virgolette reso più forte giustamente ma perché lui una persona così a contare qualcun altro avrebbe potuto tranquillamente dire stop per il sistema guarda direi molto brevemente riprendo qualche che hai detto tu prima e che comunque una cosa effettivamente folle ma proprio senza senso perché a digitare se voi provate da casa digitare il l'hashtag appunto il deus volt da qualsiasi parte lo trovate o anche semplicemente lo scrivete nella barra di ricerca saltano fuori un sacco un sacco di video io per esempio ho trovato un video di un canale che si chiama the art of war appunto di una mod di attila total war dove nella copertina stessa c'è scritto deus volt e insomma è una partita con una mod appunto sempre della stessa fazione che ha utilizzato anche andrew channel ma allora uno ovviamente si chiede una cosa folle perché perché questi video non vengono censurati ma una serie intera di un ragazzo che comunque anche molto bravo e perché dietro ci sono ore ore di lavoro e vengono censurate stiamo parlando di un ragazzo che non so quanti video ha fatto pensavo pensavo ci fosse scritto da qualche parte su youtube sulla pagina ma non c'è comunque stiamo parlando di 1000 2000 video insomma non meno caspita quindi è quello strano anche io ho notato che effettivamente anche i video che stavo che ho caricato in questo lasso di tempo scrivendo deus volt scrivendo crociati cercando di triggerare il bot a me non ha sferato poi mentre perché non avendo la monetizzazione attiva ha detto sarà quello il motivo molto probabilmente anche se quando capita il copyright arriva anche a me per determinate canzoni o scene di alcuni giochi mi è arrivato dicendo non è uno strike semplicemente verrà monetizzato il video da proprietario del copyright punto quindi anche un canale piccolo come il mio come il tuo sicuramente queste cose possono accadere però ripeto l'unica cosa che mi ha fatto pensare dopo che ho visto anche l'ultimo video che ha fatto questo pomeriggio andrew è appunto che c'è stata una segnalazione in massa di gente e basta e mi chiedo dove possono da dove possono arrivare queste persone perché un canale come quello di andrew genere così tanto odio tra virgolette possiamo chiamarlo odio invidia forse più che odio non capisco perché il mio pensiero personale il fatto che ovviamente più si cresce e più anche persone si hanno contro però è difficile in questo caso avere insomma secondo me qualcuno contro per un videogioco insomma mi pare qualcosa di assurdo personalmente sì 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 no penso più che per il discorso del videogioco penso proprio per il discorso del canale però io sono iscritto a andrew da quasi cinque anni ormai nel 2015 credo la prima volta che l'ho visto e aveva 4000 iscritti averne visti fare 20.000 in questi quattro anni è stato bello e non ho mai visto mai visto un un atteggiamento sbagliato suo nei nostri confronti solo gli ha avuti degli atteggiamenti un po un po stizziti quando è arrivata certa gente a fare dei commenti che giustamente giustamente ha detto così è abbastanza umano insomma assolutamente anzi rispetto a tanti altri che vedo è rimasto comunque sia quello che era dei 4.000 iscritti cioè bravura del videogioco bravura nell'esposizione bravura in quello che dice come lo dice come crea le storie perché credo che tanto tanta parte del suo successo è dovuta sia come gioca e comunque gioca bene si può imparare tantissimo da lui ma anche soprattutto per quello che crea quello sfondo che crea un gioco strategico comunque dà la possibilità di di creare un mondo parallelo volendo quindi si si può costruire sopra assolutamente sono d'accordo il meno male possiamo chiudere diciamo questo video dicendo un bel meno male perché comunque la playlist è tornata tutto tutti in piedi non ci sono problemi youtube comunque si è attivata in tempi celeri quindi un enorme meno male esatto l'unico dubbio che mi rimane è che si sia attivato in tempi celeri perché giustamente andrew è comunque un minimo di peso siamo comunque parlando di un canale di 24 mila 800 iscritti quindi se andiamo a dare youtube è uno dei canali con pochi iscritti cioè noi non esistiamo a livello dei nostri iscritti lui ne ha pochi perché finché non hai almeno 100 mila è difficile che youtube agisca così celermente quindi sono contento che comunque l'abbia fatto assolutamente e spero che faccia così per tutti non solo per lui e non solo perché un'intera come detto tu prima un'intera community con tutti gli iscritti tutti insomma gli iscritti di andrew che stavano seguendo la serie chi anche non la seguiva perché leggendo nei commenti in tanti si sono diciamo attivati anche se non seguivano la serie quanti un due tre quattro canali cinque canali esternamente si sono attivati per i cavoli loro chi più grande chi più piccolo e questa mobilitazione ha fatto in modo tale che forse youtube ci pensasse probabilmente speriamo sia andata così e speriamo che comunque non accada più perché a nessuno l'importante è quello a nessuno e che soprattutto cerchino devono assolutamente trovare un modo di sistemare oltre diciamo discorso gaming questo questo algoritmo perché colpisce spesso tante persone che trattano argomenti difficili ma che non diffondono odio e mentre chi diffonde odio ancora di bello sereno e questo per me è esatto esatto colpisce un po un po a caso nel mucchio per adesso speriamo che col tempo diventa un pochino più preciso speriamo lo mettono a posto esatto comunque sia penso che vi abbiamo rubato già abbastanza tempo io vi ringrazio per aver seguito fin qui adesso vi faccio vedere il canale di mister g andatevi a iscrivere se no su un problema scherzo andatevi a iscrivere iscrivete da tornato da pochissimo esatto infatti volevo approfittare per dirti bentornato alla piattaforma perché tanto tra io e te e anche altri siamo sempre lì che andiamo ce ne andiamo torniamo ce ne andiamo un giorno troveremo troviamo la nostra il nostro equilibrio e niente grazie per partecipato gans grazie grazie a voi grazie grazie a tarry ringrazio anche chi sta guardando questo video sul canale di gans perché verrà postato anche sul suo canale non so ancora in che tempi se prima mio prima sul suo comunque troverete il video in entrambi i canali iscrivetevi anche al canale del tarry grazie che tra l'altro ho cambiato nome da un paio di mesi il videogiocatore solitario il videogiocatore solitario mi sono dato questa aura di mistero è una roba che volevo fare da tempo devo dire che mi è piaciuto molto come sviluppato il personaggio sai davvero bene bene beh io ho nel frattempo vi saluto anche gas vi saluta quindi ci vediamo tutti ragazzi nel prossimo video sia nel mio canale che in quello di gara